segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te e io giorgia meloni permetto che vada a fare l'assessore alla sicurezza la regione lombardia uno che fa il saluto romano e che è quindi fascista e si può fare o non si può fare scusate se sono terra terra si può fare non si può fare è un problema oppure no allora è un problema però telegrafico senza dare su robert kagan no però quella in realtà è realtà anche va bene capisco che credo solo se è un problema oppure no beh è un problema che non doveva fare doveva farlo doveva farlo convintamente perché i funerali si può fare e doveva avere il coraggio delle situazioni e farlo perché quello il problema è quello si ha avuto il coraggio di farlo poteva avere il coraggio delle scusate ma posso finire ma capito siete un po' un po' intolleranti no ma non è tollerante sono preoccupazioni visto che siamo un po' scioccati perdoni siamo un po' scioccati il problema è che non l'abbia fatto fino il problema è che se vuoi fare una cosa e vuoi con piacere sto venendo nella vostra direzione vuoi con piacere un mondo cui fai riferimento e allora non puoi tirarti indietro tanto vale che tu faccia una cosa coraggiosamente poi eventualmente la difendi la sua cosa è se il fratelli d'italia visto che fratelli d'italia ha preso posizione contro queste cose lo ha fatto ripetutamente in campagna elettorale ha detto che queste cose non si facevano coerentemente con avrebbe dovuto farlo uscire non è fascista tant'è che la cosiddetta è quella che voi chiamate estrema destra con fratelli d'italia non ci sta non ci sta e fratelli d'italia è fin troppo attento ma a demonizzare romano la russa è lui stiamo parlando di romano la russa assessore tra l'altro ma se sindacando una figura istituzionale che celebra la marcia di roma la marcia su roma una persona che ha creduto in un'idea di cui dovete avere rispetto posso farvi rivedere a fare le pulce quelli che fanno saluto allora mandatemi passate un attimo romano la russa assessore regionale